Sono Francesca Dego, insieme a Francesca Leonardi questa sera abbiamo partecipato a un evento incredibile al Parco della Musica qui a Roma, suonando anche musiche scritte nei campi di concentramento e ritrovate tutte attraverso il lavoro instancabile del maestro Lotoro. Penso sia una bellissima idea, un lavoro veramente incredibile e chiunque abbia informazioni per ritrovare della musica come questo pezzo e come gli altri di questa sera dovrebbero intervenire.